Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su FUNFREANCE Allora, siamo a livello 49 Ok, vai, si parte Allora, potenzia, potenzia, potenzia Allora Devo fare l'uovo, quindi Ok Poi per fare gli hamburger E la madonna, quanta roba Ah, io direi di prendermi anche un gatto Allora 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 Iniziamo Potenzia questo No No Questo Questo E questo Vai E potenziamo anche questo Vai così, facciamo le frettelle Ok Ok, cosa manca qua Solo quello Ma sai cosa ti dico Aspetta, eh Ok Acqua E devo fare la carne Quindi mi serve anche un maiale Ok E ci facciamo pure il primo hamburger Allora Van E vai con il secondo hamburger Ok Ok, con le frettelle siamo a posto Devo soltanto Ok Ok Siamo soltanto a tre hamburger Quattro hamburger Mi manca un hamburger da fare E 10k Non ce la farò mai Vendo queste Vendo le uova E vendo queste Poi Se vendo Allora Io voglio provare a vendere Un panino Vendo scala No Ok Ok Aspetta Aspetta Dove rifare 10 Di quelli Porca Troia Eh Vaffanculo Se pure rotta Ho Mark Devo fare i suoi soldi adesso scusa, il gatto non posso neanche venderlo il gatto, vabbè iniziamo a vendere 1, 2, 3, 4 no, ho venduto le ocche pure che palle però prendi due maiali non posso neanche 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 allora non posso neanche 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 niente ok ok non posso neanche non posso neanche ciao